Nella storica piazza del Brandale troviamo l'omonimo complesso monumentale, formato dalla campanassa, dalle torri corsi e riario, dal palazzo degli anziani e da un antico portico indicato come porta balnei. Ai piedi delle torri si trova il busto di Beppin D'Aca, pseudonimo di Giuseppe Cava, poeta dialettale e personaggio attivo nella vita savonese tra 800 e 900. La campanassa, chiamata anche Torre del Brandale, fu citata per la prima volta nel 1178. Insieme al palazzo del Brandale, costituiva il centro civico della città medievale. Fu mozzata, insieme alle altre torri cittadine, dopo la conquista genovese nel 1528. Nel 1933 fu riportata all'altezza originale di circa 50 metri, per opera dell'associazione a campanassa, che ancora oggi vi ha sede.